E' il Philips Mobi Compact Misc. Attenta a tutto quello che dici perché viene registrato. Non solo quello che fai, anche quello che dici. Cosa è una mila... Oh, ti sei liberato finalmente. Voi mi credete che sono dieci anni che vivo qua e non sono mai stata qua? Mai, mai? Mai, davvero? E tu come mai Alberto? Neanche no. Come mai non l'hai mai portata? Perché è un posto conosciuto soltanto da chi è vissuto qui. Un altro non posso... Ma lui ci veniva con le ragazzine. Infatti lui ha detto che era già pacato solo venire qua. Peccato. Peccato, perché... E come ci venivi? E' un bicicletta quella volta. Un bicicletta. Un di cavalli. Che bella, guarda. Ma guarda che è bellissimo, questo è tutto qua. Il città era uno? Mi ha detto che era uno sui partori, che è normalmente però conosco. Mi sono len газare, ma docento di guadare. Minima male. Grazie. 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 Grazie.